Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video da Mobile Phone Island. Oggi scopriremo come avere Google Assistant su tutti gli smartphone con Android 7.1. Iniziamo subito dopo la intro. Eccoci qua nella nostra guida per avere Google Assistant su qualsiasi rom con Android 7.1. Vedete, Android 7.1, poi vabbè qua, bisogna fare una modifica per farlo sembrare un pixel XL se non va. Allora, intanto c'è la guida su XDA per i più smanettoni, però se invece siete un po' meno smanettoni, però comunque vi consiglio di stare attenti a quello che fate, perché magari fate un piccolo pasticcio che però per voi non sapete risolvere. Comunque, per chi comunque è smanettoni, però a volte è anche un po' pigro, abbiamo questa applicazione che fa tutto lei. Si può scaricare dal Play Store, troverete il link in descrizione. E con i permessi di root potete farlo funzionare. Intanto premete su Get Assistant, dovrete dare i permessi, poi alla fine vi dirà di aggiornare. Poi intanto vi faccio una piccola raccomandazione. Quando aprirete questa applicazione vi dice, mi raccomando dovete avere un Nexus con Android 7.1. In questo caso sono iniziato a farlo andare su un LG G4 con Android 7.1. Potrebbe dare un problema con le altre ROM su altre telefoni, quindi state attenti comunque alla fine se siete smanettoni. Basta fare un wipe e rifresciare la ROM e si risolve tutto. Se non siete smanettoni, evitate invece perché magari potesse creare dei piccoli problemi che per voi però non li sapete affrontare. Comunque, una volta fatto questo, dovrete fare anche un'altra cosa. Dovete andare sulle impostazioni, andare su lingua e inserimento, poi missione, non mi ricordo. E come lingua dovete aggiungere l'inglese e lo dovete mettere come prima lingua perché se lo mettete come seconda lingua vedete che quando teniamo premuto avremo solo una one tap e non Assistant invece. Invece se mettiamo l'inglese come prima lingua con un semplice tocco. Hi Assistant, how are you? Vedete, non ha capito tantissimo però comunque funziona. Poi abbiamo anche qua le scorciatoie. Here are some things to try. You can say things like, call Sally, or make a phone call. Swipe to see more options. Vedete ci sono varie, per esempio il meteo. What's the weather like tomorrow? In Milan tomorrow there will be showers with a high of 12 and a lower 4. Vedete funziona, vediamo cosa dice per il weekend a Milano. Vedete funziona abbastanza bene, purtroppo in italiano abbiamo visto che capisce che Asus non dice all'ufficio del dentista che non ha assolutamente senso. Però vediamo. What do you think about Apple? Vedete da questa risposta un po' a tutte le domande che fate, per esempio anche se chiedete un'altra azienda. per esempio What do you think about Asus? Ah, comunque qua ha capito un'altra cosa che non c'entra niente. Comunque vedete che funziona abbastanza bene. What are your name? I'm not sure about that. What What is your name? Google Assistant's the name. Helping you is my game. E qui vedete è anche abbastanza simpatico. Tell me a story. Come vedete Google Assistant funziona in inglese, è divertente, a volte capisce alcune cose invece di altre, però alla fine presse anche un porting che straccava bene. Ci vediamo per l'anno nuovo, con l'arrivo dei Pixel in Italia, che ci sia anche l'assistente in italiano. Per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, nel caso mettetevi un mi piace, commentate e condividete, ci vediamo al prossimo video da mobile phone. Ci vediamo al prossimo video, ciao!